Ciao, oggi voglio parlarti del dropshipping. Voglio spiegarti come funziona nella maniera più semplice che ci sia. Intanto vi presento, sono Patricio Pascuzzi, mi occupo di business online e sono in social media advertising. Che cos'è il dropshipping? Il dropshipping è una modalità di vendita quasi a costo zero. Puoi trarre un profitto senza spendere migliaia di euro. In cosa consiste? Oggi voglio prendere come esempio un drone, si chiama Drone E58. Lo puoi andare a cercare su Amazon. Questo drone viene venduto attualmente su Amazon a 60 euro, 59 e 99. Con la spedizione che è prevista tra il 5 e il 15 giugno, quasi più di due mesi. Lo stesso drone lo andremo a cercare su un altro tipo di piattaforma per creare il nostro business. Adesso ho preso come esempio Aliexpress, ma tu puoi usare altre piattaforme che siano Wish, Alibaba, qualsiasi altro tipo di piattaforma che ti permette di avere lo stesso prodotto a un costo minore per poi trarre profitto da quella vendita. Attualmente su Aliexpress lo stesso drone, l'E58, l'ho trovato a 26 euro e 99 centesimi. Ok? Più spedizione. La spedizione ci costa circa 3 euro o 4 euro. Comunque il prodotto finito ci viene 29,69 euro. Cosa significa questo? Che noi possiamo andare a trovare un accordo con questo venditore. Metteremo questo prodotto in vendita sulla nostra piattaforma, che può essere un tuo e-commerce, ebay, amazon, subito.it, una qualsiasi piattaforma a tua scelta. Sappiamo quindi che il prodotto a noi finito ci costa 30 euro e attualmente su Amazon viene venduto a 60. Quindi possiamo mettere questo prodotto in vendita sulla nostra piattaforma a per esempio 45 euro e avremo un margine di 15 euro. Una volta che l'utente finale acquista il prodotto sulla nostra piattaforma a 45 euro, non faremo altro che prendere 30 euro di quei 45 che abbiamo acquisito, andiamo dal nostro fornitore, acquistiamo il prodotto e lo mandiamo direttamente all'utente finale. Quindi facciamo praticamente da tramite, ok? Ma con un nostro profitto. In questo caso il profitto è di 15 euro, ma non abbiamo speso nulla, ok? Ovviamente per avere più vendite possiamo fare una strategia di marketing, possiamo pubblicizzare il nostro prodotto online, sui social media, per far sì di vendere più unità e avere più guadagno. Questo metodo di vendita lo si può fare con qualsiasi tipo di oggetto. Quindi puoi scegliere la tua nicchia di mercato, puoi creare il tuo e-commerce, se vuoi creare la tua piattaforma e vendere qualsiasi tipo di oggetto senza avere budget per l'acquisizione del prodotto. Con il dropshipping quindi possiamo avere un alto margine di profitto, non dobbiamo occuparci di stoccaggio e magazzinaggio, non dobbiamo occuparci di spedizione, non dobbiamo occuparci quasi di nulla. Non facciamo altro che trovare il nostro prodotto e inserirlo sulla nostra piattaforma. In che modalità puoi vendere questo prodotto? Puoi abbassare un po' il profitto e fare le pubblicità online, le pubblicità sui social, in modo di raggiungere più utenti e alzare di tanto la percentuale di conversione di clienti. Se sai farlo, puoi farlo da solo, se non sai farlo, puoi affidarti dei professionisti. O puoi acquisire la tua competenza, puoi comprare un corso che riguarda le pubblicità sui social e con la tua competenza che hai acquistato puoi entrare ancora più profitto dai tuoi prodotti. O se no, quasi, soprattutto a costo zero, ma soltanto con il tuo tempo, per esempio puoi creare una pagina Facebook, una pagina Instagram, dove andrai a parlare in questo caso di droni, ti fai il tuo pubblico, popoli la tua pagina e andrai a sponsorizzare il tuo prodotto. Ovviamente ci vorrà molto più tempo. Questo tipo di business, il dropshipping, lo puoi applicare a qualsiasi tipo di prodotto. Quindi puoi scegliere la tua nicchia, scegli i tuoi oggetti e li metti in vendita, senza spendere un euro nell'acquisizione del prodotto. Quindi spero di essere stato chiaro. Se hai qualche dubbio, scrivilo nei commenti e sarò felice di risponderti. Se hai qualche domanda e vuoi approfondire l'argomento sulle pubblicità sponsorizzate sui social media, scrivi sempre nei commenti. Ti invito a condividere questo video, lascia un bel like, iscriviti al canale e noi ci vediamo per un prossimo video.